Deve dare una mano in fase di non possesso anche Pucciarelli, oltre a Zambelli in questa situazione. Palla che diventa buona per Pjanic, tocco in mezzo per Chedira, posizione regolare, traversa, clamorosa. Che occasione per la Juve, grandissimo lancio da parte di Pjanic, la risperazione di Chedira. E sì perché ancora una volta molto bravo, qui non si alza la sufficienza. Quadrado che se ne va via Pasquale, quadrado, 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 Skorupski. Tra l'altro Skorupski era rimasto in porta in maniera abbastanza incomprensibile. Palla buona per l'Empoli, che trova un po' di campo con Pucciarelli, c'è Maccarone in mezzo, sta arrivando anche Krunic. Palla buona ancora per Pucciarelli che va col destro. Palla buona per Dybala, che prova a servire ancora Quadrado, l'uno contro uno, sempre con Pasquale, quadrado, Skorupski. Taglio di Teio. Ancora Krunic. Prova la conclusione. Salva Buffon, occasione per l'Empoli. Palla buona per Alexandro, che punta l'uomo. Adesso c'è Zambelli su di lui, palla dietro Dybala. Eccolo qui, il vantaggio della Juve. 1-0 Juve con Dybala, minuto 64. Scatenato e assolutamente spietato sotto porta. Sì, perché Alexandro fa una grandissima... Palla buona per Higuain, che prova a salire. Higuain lavora bene questo pallone. Higuain, Higuain! 2-0 Juve, primo gol in trasferta di questo campionato. E nel giro di 3 minuti, crolla la diga e la Juve mette il match in cassaforte. Higuain, Higuain, Higuain! 3-0. Il primo errore di Zambelli per lui. Sulla sciagura di Zambelli. Si chiude tutto, 3 gol in 5 minuti. Festa grande per Higuain e compagni. E Higuain migliora ancora i suoi numeri. 8-0. L'espegno-d'in spouses. 4-0. 0-0. 7-0. 9-0. 9-0. 9-0. 9-0. Grazie a tutti